C'ho pensato un bel po', Kenny. Non sono più tanto sicura. Cosa? No, aspetta, ne avevamo già parlato. Sì, lo so. Che fine fanno i nostri progetti? Ho cambiato idea, mi dispiace. Per colpa di Andy? No. Non mi sento ancora pronta a partire. Perché? Che cosa farai senza di me? Dimentichi mio padre. Ha bisogno di me. Io non resterò qui tutta la vita. A me va di partire. Solo che non adesso, forse tra un po' di tempo. E io non voglio perdere altro tempo. In questo posto non sento altro che calugne su mio padre. E alle mie domande lui risponde che questa gente ha paura, non capisce. Ma sono io il primo a non capire. Io voglio andare a San Francisco. Con te o senza di te. Scusami, Kenny. Sì. No, non fare così. Sono troppo confusa. Per me non è facile lasciare il posto dove sono nata. I passerotti. Di che parli? Se ne sono andati. E ora che cosa vogliono? Samantha! È solo mio padre! Che c'è? Vuoi farmi paura? Che cosa devi dirmi? Che ti voglio bene, Kenny. Che c'è? 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 Grazie a tutti.